Ciao a tutti, si sente? Meglio? Meglio? Allora, oggi vedremo un paio di cose con Raspberry, piccolare, e faremo delle smart things. Partiamo, perché siamo già in ritardo e tutto, quindi via. Io sono Cristian, lui è Stefano, io sono sviluppatore, lui è in DevOps, lavoriamo per il KQA, che è un'agenzia di comunicazione worldwide, qui ha sedi a Milano e a Venezia, noi siamo nella sede di Venezia, e ci piace Linux, ovviamente, e ci piace giocare con il Raspberry. E oggi andremo a fare delle smart things con il Raspberry. In questo caso ne abbiamo due e faremo tante cose bellissime. Cos'è una smart things? Smart things è di solito un device che ascolta degli eventi e dopo che li ha recepiti fa qualche azione. E generalmente un smart things comunica con altri device. Esempi semplici sono i termostati, la temperatura va giù di un certo grado, ecco che si accende la caldaia, inizia a piovere, abbiamo il sensore di pioggia, si abbassano le tapparelle. Quindi, generalmente noi associamo questo concetto di smart thing al concetto di smart building, e soprattutto se sono connessi a internet, al concetto di internet of things. Esempi sono ad esempio sensori, camere, lampadine, prese di corrente, e utilizziamo questi device, soprattutto le prese di corrente, per magari rendere smart un oggetto che non è smart. Generalmente questi device sono però closed, molto chiusi, e non abbiamo nessun controllo sopra questi device, non abbiamo controlli sull'API, come loro si interfacciano nel resto del mondo, e spesso sono anche molto costosi. Quindi oggi andremo a costruire i nostri smart device. E partiamo utilizzando il Raspberry. Il Raspberry è una single board computer, fatta dalla Raspberry API Foundation, proprio per portare l'informatica e l'elettronica di base nelle scuole e nei paesi in via di sviluppo. Ci sono diverse board, le potete vedere anche qui. L'ultimissima, che noi non abbiamo, comunque è molto interessante, è questa qui, quindi dalle caratteristiche veramente che si avvicina a una smartphone o a un computer comunque base. La cosa più importante è che ha 17 GPIO, questi pin che servono per poter comunicare con i sensori. Il costo, lo vedete, tra i 45 e i 65. 65 è quello che costa di più, è quello con 4 giga di RAM. Noi, quest'oggi, useremo il suo fratellino minore, anzi la serie prima, e il suo fratellino minore, che è questo, che è molto più semplice, però anche questo ha tantissime possibilità, perché ha il Bluetooth, ha queste 17 porte IO, e mini HDMI e USB. Il costo, 20-25 euro. Perché andiamo a utilizzare un Raspberry? Sicuramente per il costo, è facilmente accessibile, quindi potete comprarlo, fare prove, bruciarlo, ricomprarlo. E inoltre è un vero PC, sotto sotto, quindi puoi connetterci monitor, tastiere, mouse, e quindi utilizzarlo, soprattutto l'ultima release, veramente come un PC, anche solo per navigare, dato le specifiche che ha. Inoltre ha il Wi-Fi Bluetooth, infatti questi device adesso sono collegati al Wi-Fi, e soprattutto ha un sistema operativo completo. Quindi rispetto ad altre board, ce ne sono tantissime, qui non devi caricare un firmware particolare, ma bensì hai Debian, che quindi è molto conosciuta, e quindi hai tutto il parco pacchetti Debian. e inoltre ci si possono mettere altri sistemi operativi, tipo Ubuntu, in diverse versioni, e anche Windows 10 IoT Core. Avere questa possibilità vi permette di poterlo gestire in diversi modi, cioè come un client desktop, ma anche come un server, Linux, ci potete mettere, che ne so, il vostro sito là dentro. Non fatelo. Cioè, a meno che non ci mettete davanti qualcos'altro. Inoltre, essendo una delle board più conosciute, e anche la prima a arrivare nel mercato con questo concetto di basso costo, si trovano tantissimi documenti e video, e soprattutto, cosa importante, si trovano i sensori. Molto spesso i sensori sono complicati, perché sono composti da più elementi elettronici. Io direi elettronica non so niente, Stefano Manco, di me. E quindi, usare il Raspberry, e quindi andare su internet e cercare un sensore che fa cose. Con il Raspberry trovate sicuramente qualcosa di pronto e facilmente collegabile. Quindi, è interessante lavorare con il Raspberry perché non devi essere un ingegnere elettronico, sotto sotto. Quindi, partiamo adesso a costruire qualcosa. E... In questo caso, di solito, questi dispositivi, tra l'altro, vengono usati per veramente variati usi. Ce ne sono, e se trovate, e se cercate la documentazione, ci sono veramente esperimenti molto utili, anche alla società, del tipo fare un Raspberry col sensore dell'aria, in modo tale che, ne so, apra le finestre, oppure il sensore che sente l'umidità nelle piante, apre il rubinetto, questa cosa è qui. Secondo noi, per questo talk di oggi, abbiamo detto avviciniamo il problema agli studenti. I studenti hanno altre tipologie di problemi. Secondo me, un problema che avete, voi, è che spesso state al computer a studiare, in teoria, e vostra mamma entra in camera. In realtà non state studiando, state su Instagram e altro, e quindi sarebbe carino se la mamma entra in camera e il computer cambiasse la schermata. quindi oggi andremo come primo esperimento a fare questa cosa. Quindi utilizzeremo il Raspberry per vedere se la mamma, ad esempio, è nella nostra stanza e quando la percepisce, si fa un cambio di scrivania nel computer. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Ovviamente del Raspberry, perché il Raspberry sarà il nostro, diciamo, SmartThings. Un sensore, che ovviamente deve sentire che la mamma è entrata nel raggio d'azione, ecco, e del software, che ovviamente comunica con il sensore, perché abbiamo bisogno del software, altrimenti se no, tra l'altro questo sensore lavora anche senza software. Se non usiamo software, abbiamo creato in pratica un altro sensore. Invece in questo caso noi andiamo a creare una SmartThings, cioè sentiamo, diciamo, l'evento mamma e poi andiamo a reagire di conseguenza. Il sensore che andiamo a utilizzare è un sensore di movimento. Questi sensori di movimento cosa fanno, come lavorano? Sentono un movimento, ti mandano un segnale, molto easy. Il sensore è questo. Quindi, come vedete, è complesso, per quello dicevo che Raspberry trovate delle cose già pronte e fatte. come vedete c'è la possibilità di potenziometro per il tempo, la sensibilità. E verso il Raspberry è molto semplice perché hai solo tre pin, la terra, la corrente, diciamo, e l'output del segnale. Ovviamente, conoscere il sensore dovete un attimo conoscerlo perché all'inizio, quando iniziavamo a fare le prove, il nostro sensore ha il sensore di luce e quindi in condizioni di luce non funzionava. Abbiamo dovuto tapparlo con del nastro nero. Quindi, un po' dovete conoscere i device con cui lavorare, i sensori. Come software utilizzeremo su Raspberry, in questo caso un framework robotico, IoT, che è GoBot, è scritto in Go e supporta 35 piattaforme e tantissimi device e sensori e questo vi permette di astrarre ciò che andate a utilizzare sotto. Quindi, se io stacco benissimo questo e vado su un'altra piattaforma che è Arduino, ecco che il software funziona lo stesso. Essendo in Go abbiamo la possibilità tra l'altro di scrivere il codice sul nostro computer e poi di compilarlo verso Go. Quelle sono le istruzioni per compilarlo verso il Go più piccolo, il Raspberry più piccolo, il 0W e Go ha tantissime librerie già dentro quindi è molto facile creare end point, web server e soprattutto è semplice fare la concorrenza. Quindi, ne so, avere un web server dentro il Raspberry mentre abbiamo un altro thread parallelo diciamo che ascolta il sensore. Quindi l'architettura del nostro primo esperimento è avere un sensore che percepisce movimento è uno scripting che quindi ascolta il sensore e inoltre questo scripting accetta delle connessioni dei client quindi possiamo avere più device che sono controllati dal Raspberry quindi immaginate l'aula di informatica a scuola almeno a che tempi era così ognuno aveva il computer potreste utilizzare un unico Raspberry per controllare tutti i computer quindi se il professore si avvicina switchate cambiate cose esatto quindi il computer si registra al Raspberry dopodiché il computer resterà in ascolto degli diversi eventi che il Raspberry eventualmente gli manda e quindi ogni volta che un movimento è stato viene percepito si notificano tutti i client in questo modo abbiamo fatto diciamo un applicativo client server abbiamo usato solo HTTP di solito in questi device abbiamo anche protocolli di più basso livello però qui siamo stati alti in questo modo per rendere tutto più semplice sia da implementare sia da consumare cioè i client non devono chissà usare librerie basta fare una semplice chiamata HTTP è molto semplice quindi non c'è nessuna autenticazione quindi se dopo andrete a vedere i sorgenti non lanciatelo nell'internet e siamo pronti per la demo quindi questo è il grafichetto che riassume la persona entra nel raggio di azione del sensore il raspberry manda un segnale al computer e il computer da qualsiasi cosa stavo facendo passa a un altro a un'altra schermata in questo caso siamo pronti per farlo e speriamo a un altro allora allora ok ha già funzionato facciamo un'altra prova fermati allora supponiamo che un altro desktop qui ad esempio un attimo che apre qualcosa quindi su un altro desktop io sto guardando questo ok ok e quindi qui in teoria sto facendo gli affari miei nel senso su Instagram ad esempio e appena il sensore funzionasse ah ok colpa mia torniamo di qua ok perfetto sono switchato di là quindi adesso io posso ritornare tranquillamente di qua fermati quindi adesso posso continuare a fare le mie cose se entra di nuovo ecco che ho switchato il desktop ok bene questo è il primo demo adesso lo spengo perché sennò si switcha di desktop in continuazione adesso andremo a costruire un altro esempio e nel nostro esempio in questo caso andremo a fare un po' di musica e in questo caso utilizzeremo della frutta della verdura che vedete qua per suonare della dell'audio in pratica e il concetto dietro è molto semplice lo vedremo non più rendete paura da tutti i fili sono tanti però va bene non più rendete paura di cosa abbiamo bisogno ovviamente del raspberry collegato con un device audio in questo caso è proprio qui il cavo utilizziamo il frattello più grande perché ha già l'uscita ha già il jack per l'uscita audio il frattello più piccolo diciamo avrebbe bluetooth quindi potreste usare una cassa bluetooth in questo caso abbiamo bisogno di un chip che vedete in mezzo qui in mezzo a tutti i fili questo chip serve per sentire le variazioni analogiche il raspberry non ha ingressi analogici ma solo digitali quindi dobbiamo cercare di convertire l'analogico in digitale altrimenti nel raspberry avreste dei dati completamente inutili e quindi facciamo un semplice script che ascolta tutti i diversi segnali che questo chip sente per fare il play di un audio nel dettaglio il chip che usiamo è questo anche qui cercate su internet mcp 3008 raspberry vi spiega tutti i circuiti per collegarlo eccetera sulla parte destra ci sono tutte le connessioni verso il raspberry sulla parte sinistra i 7 canali da 0 a 7 quindi 8 canali li potete usare ovviamente per per misurare le variazioni analogiche tutto questo si basa sul principio che qualsiasi cosa è conduttiva quindi basta che far passare della corrente pochissima su la frutta in questo caso e dopo di che toccando la frutta si va ad alterare la resistenza della corrente che passa e quindi c'è una variazione sulla che viene percepita dal sensore questo è ispirato da Mekimeky Mekimeky è una board fatta da due studenti del M.A.T. che in pratica assembla tutti questi fili che vedete in un'unica board è facilmente collegabile a computer ed è facilmente collegabile con i fili verso qualsiasi tipo di oggetto anche un foglio di carta dove avete disegnato qualcosa con la matita perché la matita è grafite e quindi conduce come il software dietro è molto semplice quindi è un piccolo script che sente tutti i diversi segnali dell'MCP 3008 in caso sentiamo una alterazione vuol dire che qualcuno ha premuto un frutto e ogni pin degli otto pin sono stati collegati a un suono diverso ecco che toccando un frutto o un vegetale facciamo dei suoni diversi vediamo se effettivamente funziona tutto questo è il disegno quindi toccando il frutto il chip in questo caso lo sente e lo trasmette a raspberry il quale farà un play di qualche canzoncino vediamo se è vero ok questo è molto semplice ovviamente ci sono altri suoni qua abbiamo altra frutta però per ora ne utilizziamo tre infatti se andate sul sito di Meki Meki lo utilizzano per per costruire o tipo una tastiera di un semipianoforte o di una pianola o comunque un controller per i videogiochi perché alla fine premo sempre un bottone andiamo avanti col prossimo col prossimo esperimento chiamiamolo così in questo caso ritorniamo ad utilizzare il raspberry P0W e in questo caso utilizziamo di nuovo il sensore di movimento in questo caso e soprattutto utilizziamo il modulo della camera che è presente nel raspberry il moduletto della camera è questo questo viene fornito cioè lo comprate su internet costo 20 euro costa più questo che la board però è una camera ed è nativa tra virgolette per raspberry quindi c'è tutto software per gestire la camera ed è per quello che abbiamo scelto anche il raspberry perché è molto semplice dato che ha diversi device già pronti fatta la foto quindi sentiamo un movimento facciamo la foto utilizziamo l'intelligenza artificiale sulla foto per capire se c'è qualche viso fatto questo andremo a interrogare un servizio che ci restituisce foto di gatti e andremo a sostituire il viso con una foto di un gatto in questo caso quindi abbiamo bisogno del raspberry col modulo della camera che abbiamo visto ovviamente oltre al modulo della camera il raspberry ha tantissimi altri moduli che veramente basta attaccarli e funzionano da schermi anche cose più complesse abbiamo bisogno di un server per fare l'intelligenza artificiale perché questo perché la facciamo fuori del raspberry il raspberry sarebbe troppo lento seppure quello che andiamo a utilizzare è possibile metterlo anche dentro il raspberry come software utilizzeremo una libreria face recognition scritta in python che fa solo face recognition che è abbastanza accurata offre già un modello dentro quindi non serve ad estrarla quindi è possibile scaricarla ovviamente ha il suo peso però già potete applicarla sulle vostre foto una volta che abbiamo trovato delle facce all'interno della foto andremo a utilizzare questo sito che è un sito che non fa altro che generare immagini di gatti alle dimensioni che volete voi dopodiché si prenderà la faccia la si tira via e si mette la foto del micio l'architettura quindi è molto semplice sempre un programma in go che sente il sensore di movimento dopodiché quando qualcosa succede andremo a chiamare l'utility rasp still che serve per gestire la fotocamera di raspberry questa è già dentro questa utility dentro il raspberry quindi potete veramente accedere al raspberry e prendere foto fare delle foto dopodiché caricheremo il tutto su un server dell'intelligenza artificiale in questo caso il server sarà il mio computer perché è molto più veloce e performante del raspberry e andremo a fare questo swap di immagini l'architettura è questa e come vedete la complessità rispetto al primo esempio è aumentata abbiamo un sensore che sente il movimento manda l'input al raspberry il raspberry usa la camera per fare la foto la foto viene mandata al server il quale prima nel punto 3 fa il face recognition poi nel punto 4 chiama il sito esterno per dammi un'immagine di gatto di queste dimensioni e dopodiché farà il replace nel punto 5 proviamolo qua donno questo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, questa volta ha funzionato. Adesso vi faccio vedere il risultato. Questo è il risultato. Quindi, il sensore di movimento, ha caricato la foto, l'ha caricata sul mio computer, il quale ha fatto il riconoscimento della faccia, l'ha trovata e ha sostituito l'immagine. Non ci siamo presi? Ok. Quindi questa era l'ultima, diciamo, cosa stupida che abbiamo fatto oggi con Raspberry e Fili, intelligenza artificiale, frutti e quant'altro. Per finire, per ora abbiamo creato solo delle SmartThings. Perché sono solo delle SmartThings? Perché non li abbiamo mai collegato internet, quindi non li abbiamo mai rese pubblico. Adesso ormai il concetto di IoT si è esteso anche a questi device. In realtà, inizialmente, IoT era solo per device che si connettono e si espongono in qualche modo ad internet. Esporre qualcosa in internet, ovviamente, ha la sua utilità. Pensate a questa camera, ad esempio, senza il discorso dei gatti, che però vi osserva a casa e in caso di movimento voi siete via, vi arriva la notifica sul telefono. Oppure voi potete vedere in real time cosa c'è a casa. Però, quando mettete qualcosa in internet, potrebbe essere pericoloso, perché vi esponete veramente a una serie di pericoli e quindi dovete avere bene concetti di network, di sicurezza sul network. E soprattutto, se iniziate ad avere, qua c'è un typo, sarebbe it requires, se iniziate ad avere diversi dispositivi, se esce, ad esempio, una notifica per un bug urgentissimo, dovete andare a giornali tutti. Quindi, avere tanti dispositivi, infatti questo è il pericolo maggiore anche di avere una Smart Building o Smart Home, è cosa succede quando c'è un aggiornamento di sicurezza? Chi lo fa? Come lo facciamo? Dovete mantenere tutte le cose aggiornate. Inoltre, un altro pensiero va fatto sicuramente sui dispositivi stessi. Loro sono molto piccini, hanno poca potenza di calcolo, però adesso inizia a diffondersi il cloud computing, quindi serverless, quindi lambda function, di AWS, Google Cloud, ne hanno diverse. Queste sono molto utili, perché questi dispositivi sono piccoli e voi magari avete bisogno di tantissima potenza di calcolo. Ed ecco che andate in cloud, oppure dovete inviare anche una semplice mail. Potrebbe farlo in Raspberry, ma non sapete come configurarlo, vi ritorna più semplice farlo in cloud. Ecco che fate una lambda function che fa questo. Ovviamente qui andate ad utilizzare una soluzione cloud, molto probabilmente. L'ultimo pensiero che facciamo è sicuramente sull'intelligenza artificiale. Noi l'abbiamo utilizzata in modo stupido, come tutto il talk di oggi era il tema della stupidità. Però potete fare cose molto più interessanti, quindi potete rendere i vostri dispositivi molto più divertenti o addirittura molto più precisi, che è quello che vi può utilizzare l'intelligenza artificiale. Stesso esempio qui, sensore di movimento con camera. Passa il mio gatto, non gli faccio la foto, è il mio gatto. E diciamo l'intelligenza artificiale riesce a riconoscerlo. Passa un umano, una persona, ecco che lì deve scattare la foto. Quando si parla di intelligenza artificiale è difficile trovare soluzioni open source. Se le trovate avete bisogno di un hardware adeguato per farlo, quindi per fare tutto l'addestramento. Nel nostro caso la libreria aveva già l'addestramento per riconoscere facce, ma se domani iniziate a riconoscere, che ne so, sedie o altre tipologie di oggetti, avete bisogno di un altro tipologio di addestramento. Direi che è tutto. Grazie. Grazie. Grazie.